alessandra e vittorio hanno deciso di cambiare l'operatore di luce perché è da mesi che vivono tra continui guasti non ne potevano più di lavatrici interrotte di luce saltata elettrodomestici bruciati di bollette con importi sbagliati hanno scelto di passare a energy corp perché hanno letto online recensioni di clienti molto soddisfatti del servizio energy corp infatti cerca di utilizzare le ultimissime innovazioni tecnologiche per garantire copertura e affidabilità ai suoi clienti giorgio è il responsabile della manutenzione della energy corp e usa una soluzione tecnologica di manutenzione predittiva questo significa che può sempre sapere in anticipo dal suo smartphone il rischio che un certo componente della rete possa subire un guasto e può pianificare un intervento di manutenzione preventiva per garantire sempre la fornitura di luce ai clienti giorgio può così organizzare la sua squadra per intervenire preventivamente sulla rete mettendo a disposizione i giusti specialisti e gli strumenti necessari questo significa risparmiare sulla manutenzione straordinaria perché gli interventi sono sempre in anticipo e mirati giorgio può affidare la gestione degli interventi alla tecnologia sap che grazie alla potenza di sap ana è in grado di analizzare grandi quantità di dati relativi ad eventi passati per prevedere la probabilità che si verifichino eventi nel futuro e anticipare ispezioni e manutenzione ordinaria finalmente alessandra e vittorio possono smettere di stressarsi per la gestione dell'elettricità di casa e dedicarsi ai loro hobby